Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, guardate qui, ero a fare due tiri e sono entrati a disturbarmi Ma come è possibile una cosa del genere? Ragazzi, questo è il primo gameplay su Next Gen, guardate il video perché parleremo di duemila cose Dunque ragazzi, guardate, premo start, start o meglio, il tasto in alto a destra per organizzare questa partita in questi campi che sono sparsi per la City E decido di fare uno contro uno per punire questo ragazzo che si è intromesso mentre io giocavo con la mia palla in uno dei miei campi preferiti per provare un rilascio Visto che non c'è il mio campo e quindi i rilasci li vai a provare in questi campi Stavo provando un rilascio abbastanza interessante e lui si è messo lì a disturbarmi Quindi ho deciso di dargli una lezione Ma in questo video voglio parlarvi di tante cose quindi ragazzi assicuratevi di guardarlo Non dico fino alla fine ma il più possibile perché sparse nel video ci saranno tantissimi argomenti di cui parlare Vi introduco, voglio parlare di YouTube, voglio parlare di consigli per aprire un canale YouTube Magari per giocare ad NBA e diventare content creator E voglio parlarvi del modo in cui poter giocare con me a questo gioco Insomma di tante cose E in sottofondo ci saranno le mie prime due partite al parco praticamente La prima in generale nel senso in the city perché quelle nel campo dei ruchi Per un problema mio non sono riuscito a registrarle Nel senso che ero convinto che stavo registrando Poi però mi sono reso conto che in realtà il mio elgato aveva failato E mi sono ritrovato senza tutta la registrazione del mio calvario nel rookie camp Quindi sono assolutamente le mie prime partite registrate nella city Devo dire un gioco che mi sta prendendo molto Parlerò di tutte queste cose in questo video Quindi mi raccomando seguitelo fino alla fine E voglio cominciare proprio spiegandovi come si fa a giocare con me Ieri ho fatto la prima live su Twitch Ho deciso che cercherò i miei compagni di squadra Cercherò gente con cui giocare Tramite il mio profilo Twitter Ve lo lascio qui in sovraimpressione Anche in descrizione Mi raccomando mettete un follow al canale Twitter In questo modo potrete sapere tutte le volte che io cerco qualcuno con cui giocare Specificherò il ruolo che mi serve Specificherò l'orario Tutte queste cose qui Quindi mi raccomando follow su Twitter Taggatemi per scrivermi le cose Insomma cerchiamo di far decollare anche questo Twitter Che per gli americani è praticamente il punto di riferimento Per quanto riguarda l'organizzazione delle partite E per le news su questo gioco E su tutti gli eventi che vorrò creare in questo gioco Dunque ragazzi cominciamo ora a parlare un po' di questo gioco Devo dire davvero mi sta prendendo tanto È un gioco, si vede che c'è un vento di novità Qui vedete come, non so per quale motivo Ma nella giornata di ieri praticamente non mi faceva lo splash del verde sotto il giocatore Quando facevo verde E nella giornata di oggi sono riuscito a sistemare il problema Ma dipendeva da un'impostazione che avevo inserito Credo fosse proprio quella che ti permette di avere l'indicatore Soltanto quando usi col Pro Stick E non si sa perché in questo modo ti bagga lo splash del verde Peccato perché sarebbe un'ottima feature Per chi come me ogni tanto usa il Pro Stick E però col Pro Stick ci vuole l'indicatore di tiro Per tutte le altre volte io non uso l'indicatore di tiro Perché in questo gioco mi sembra di ha davvero un boost molto molto importante Sto giocando con la build della quale vi ho fatto il tutorial Questo demigod totale alla grande E devo dire che è partita bene Perché la build risponde come immaginavo Nonostante sia ancora molto bassa 71 di overhaul E pochi cartellini Vi lascerò uno screenshot dei valori che ho in questo momento alzato Guardate qui che stoppata in inseguimento Nonostante non avessi ancora il cartellino Ma soltanto intimidatore Quindi davvero una build che comincia a girare come voglio io E questa cosa davvero mi fa ben sperare Perché spero di non aver cannato la mia prima build E questo mi costringerebbe a rifarla Bella questa innovazione dei campetti sparsi per la città Anche se avrei preferito magari che ci volesse il nostro permesso Prima che qualcuno entrasse mentre noi facciamo due tiri Perché in mancanza del mio campo Magari se c'è sovraffollamento È difficile trovare un posto dove mettersi a tirare con tranquillità Per provare le proprie animazioni O il proprio tiro Però in ogni caso è bello poter organizzare queste partite O a vari giochi Oppure a 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3 Davvero una cosa molto molto interessante Devo dire uno dei problemi che sto riscontrando I problemi maggiori Riguarda la connessione Come hanno ampiamente detto gli americani C'è un problema di cali di frame più che lag Perché la latenza Quindi il ritardo dei comandi Alla pressione dei tasti sul nostro pad È grossomodo simile a quella di all gen Quindi PS4 e Xbox One C'è ancora un po' di ritardo È inutile negarlo Purtroppo con la next gen Non sono stati risolti questi problemi Anche se probabilmente va un pelino meglio Il grande problema purtroppo Si trova quando andiamo a giocare Al parco nel 3 contro 3 Intanto qui la chiudo in grande stile E si sarà pentito probabilmente Di avermi sfidato Di avermi interrotto Mentre cercavo Di fare le mie cose Qui guardate Sembra che sto fermo Metto un attimo in pausa il discorso precedente Perché voglio Aprire un'altra parentesi So fermo perché? Perché Non stavo registrando Con la mia scheda d'acquisizione Quindi Totalmente ignaro del mondo PlayStation Sono andato a cercare Il modo per salvare questa clip Quindi in questo momento ero nel menu Stavo navigando per cercare Di salvare queste clip E devo dire PlayStation 5 Non so se anche la 4 Ma la 5 Offre davvero Un mondo Per salvare le proprie clip Addirittura Possiamo salvarle in 4k Nel momento in cui decidiamo di registrare Da un momento Tutto quello Che viene dopo Mentre se andiamo a ritroso Quindi registriamo gli ultimi 5-15 minuti Ce li dovrebbe salvare A quanto ho capito soltanto in 1080 Questo Per dirvi Stavo pensando di aprire un secondo canale Personale Sul quale Non trattare NBA Ma trattare consigli Per aprire un canale YouTube Per streamare su Twitch Non so Magari dei mini tutorial Per fare delle copertine su YouTube Impostare i programmi Per fare streaming Il modo in cui Crescere su YouTube Tutte queste cose qui E anche gameplay di altri giochi Quindi fare tutto su un canale secondario E lasciare questo big ticket Esclusivamente per NBA E' un'idea che mi ha balenato Da un po' di tempo Perché volevo mettere Comunque a vostra esposizione Tutto quello che ho imparato In questi mesi Per quanto riguarda YouTube E Twitch Quindi se quest'idea Vi può interessare Fatemelo sapere nei commenti Spaccate il tasto dei like Perché Mi farebbe piacere Mettermi a vostra disposizione Anche da quest'altro punto di vista Quindi cercare di farvi capire Come funziona questo mondo Del content creator E mettermi a disposizione vostra E di chiunque Ha questa voglia Di cominciare a fare video A streamare Magari un giorno Collaborare insieme Quindi mi raccomando Fatemelo sapere nei commenti Se vi può interessare Questa cosa Di un canale secondario Su YouTube Sul quale appunto Fare nuovi giochi E parlare di tutte queste cose Intanto siamo Al primo gameplay In assoluto Nella City E Devo dire Ho trovato dei compagni Neanche tanto scarsi E La partita Non laggava più di tanto Forse c'era qualche Callo di frame Non Nel verso in cui Attaccavamo noi Ma nel verso in cui Difendevamo Perché purtroppo Questo gioco Ha cali di frame Spaventosi Nel momento in cui La telecamera È rivolta Verso altri campi Quindi deve caricare Tanti altri movimenti Tipo ad esempio In questo lato Lagga un po' di meno Perché probabilmente Il campo in fondo È più lontano E c'è soltanto Un campo da caricare E lagga di meno Ma ho visto Altre partite In cui davvero Ragazzi È quasi ingiocabile Ci sono degli scatti Allucinanti Qui guardate Ogni tanto perde qualche frame Non è la mia connessione Non è la mia registrazione È proprio il gioco Che purtroppo È così E spero arrivi Il prima possibile Un fix Di questa situazione Perché anche gli americani Si stanno lamentando Tantissimo Tutti gli youtuber Non riescono a fare I video che vorrebbero Perché è davvero Un problema Molto molto Importante Per quanto riguarda La latenza invece Devo dire Abbastanza bene Il 3x3 Un po' meno bene Dal mio punto di vista Personale Il Pro-Am 3x3 E il 2v2 Li trovo Un po' più Laggosi Dal punto di vista Della latenza Quindi a ogni nostra Pressione Il tasto Ci vuole un po' più di tempo Perché il gioco Prende il comando In ogni caso Una partita in cui Mi sono divertito Ero con il rilascio Di cui vi parlavo Precedentemente Quindi l'avevo messo Da poco Siccome in quell'uno Contro uno Mi era sembrato buono Ho visto questa partita Che si stava delineando Al parco Ho deciso di mettermi dentro Con random Totali E devo dire Che è andata bene Il ragazzo Anche aveva fiducia in me Io ho cominciato A tirare i miei tiri Con questo Jump shot Nuovo Mi sono anche messo Al servizio della squadra Perché chiaramente Ero l'unico Che faceva i blocchi E vedevo che loro Non erano molto interessati A fare il gioco sporco Quindi mi sono messo Anche un po' A loro disposizione Per fare Il lavoro sporco La partita Come tante In questo Inizio di gioco È molto tirata Sono partite molto lunghe Perché magari si fanno Molti errori E quindi Comunque alla fine Durano un bel po' Però devo dire Sono abbastanza divertenti Con la mia build Davvero Mi trovo benissimo Come vi dicevo Ancora pochi cartellini Però Ho già Portato avanti Qualche valore Come vedete Quelli più importanti Quindi le schiacciate con contatto Ho anche comprato i pacchetti Il tiro da tre punti Il controllo palla Velocità con la palla Velocità Accelerazione Resistenza Difesa sul perimetro Ho cercato di alzare Le cose più importanti Che mi hanno portato via Circa un 110.000 vc Il valore è ancora 71 E chiaramente C'è da investire Altri vc Tanto tempo in carriera E insomma Tante cose Per portare avanti Il giocatore Però nonostante questo Devo dire Che il gioco è godibile Perché Anche senza cartellini Ma con i valori giusti A livello Abbastanza alto Si riesce a giocare bene Si riesce a fare Verde con costanza E lo state vedendo In questi gameplay Che assolutamente Non è difficile Come il 2k21 Old gen Ricordo all'inizio Era un mattonare Da tutte le parti Totalmente Mentre qui alla fine Anche senza cartellini Ci si diverte Anche se poi Becchiamo magari Gli avversari Che sono pieni di cartellini Lì comincia a essere Un po' più complicato Però con una buona squadra Che gira bene la palla Secondo me Si riesce a giocare bene Guardate Anche qui Un verdone Da 3 Con il mio Primo jumpshot Ufficiale Diciamo che Anche se non so Se continuerò a usarlo Perché mi trovavo molto bene Con il 98 Che è il primo Che ho usato In questo gioco Però devo dire Con questo Due partite Ed è andata molto bene Quindi Magari continuerò A provarlo In questi giorni Una cosa che ho notato C'è tanta differenza Tra il rilascio online E il rilascio offline È come se Sembra assurdo Lo so Sono sensazioni Magari mi sbaglio È come se Offline Paradossalmente Bisogna tener premuto Di più il tiro Rispetto all'online L'online è molto più veloce Però Nonostante tutto Guardate Basta saperlo E andate comunque a fare I vostri verdoni Qui la partita La stiamo Portando a casa 17 a 20 Ma non è finita Perché comunque I valori in campo Non sono molto elevati Quindi È tutto un po' Un terno all'otto Diciamo Quando si va A cercare dei tiri Delle conclusioni Perché comunque Il gioco è nuovo Un po' per tutti ragazzi A parte gli americani Che ci giocano Da più tempo Per tutti noi È un gioco Totalmente nuovo E devo dire La differenza Si sente Io so Che per voi Che guardate magari Video su youtube Live su twitch Il gioco sembra uguale Perché purtroppo Su queste piattaforme È difficile far rendere Prima di tutto La qualità E c'è una differenza Enorme Di qualità grafica Purtroppo Per fare streaming Ci si deve limitare Comunque al 1080p I video di youtube Anche non rendono bene Con questo 4k Quindi Devo dire Comunque La prima cosa Che salta all'occhio È la differenza La qualità grafica Tanta tanta roba Ma anche i movimenti Dei giocatori E tante altre cose Sono totalmente diversi Ragazzi Che dire Questo era il primo Gameplay al parco Alla city Se il video vi è piaciuto Ovviamente like Scrivetemi nei commenti Tutte le cose Che vi ho detto Nel corso del video E noi Ci becchiamo Al prossimo video Peace Peace